Pieve Fosciana è da sempre considerato il paese del presepe, forse perché proprio a Pieve Fosciana si realizzò un convento francescano grazie ad uno dei più importanti seguaci di San Francesco, conosciuto oggi come Beato Ercolano da Piegaro, vissuto poco più di un secolo dopo San Francesco e di cui i resti si trovano oggi all'interno della Pieve di San Giovanni a Pieve Fosciana. Ecco perché in occasione degli 800 anni dal primo presepe di Greggio, nel paese per onorare il presepe si sono fatte le cose in grande. Il 23 dicembre una fiaccolata guidata da Don Giovanni Grassi ha raggiunto la chiesina in cima al margine, come la chiamano i pievarini, per l'accensione del suggestivo presepe della luce. Un bellissimo lavoro realizzato dai presepisti di Castelfiorentino in collaborazione con l'amministrazione comunale e il comitato di Sant'Anna di Pieve Fosciana sotto la direzione dell'instancabile Maurizio Turriani. Sono quattro i presepi che sono stati realizzati, uno a San Marino, uno a Castelfiorentino, uno a Roma, dietro la Basilica di San Giovanni in Laterano e uno qui a Pieve Fosciana. Ci sarà la mostra dei presepi che quest'anno avrà anche una scena dedicata alla notte di Greggio, poi il presepio meccanico e all'interno del paese c'è la via dei presepi con vari presepi realizzati nel centro del paese.